Caroline, per favore, lascia in pace quello studente! Raccordo tutto io! Sono un dollaro e dieci centesimi! Beh, rimettiamo tutto a posto! Un, due, tre... Stella! Caroline, che stai facendo? Oh, ragazze, siete adorabili! Guardate che guance! Ridammelo! Guardati, la piccola Caroline arrabbiata! Buongiorno! È ora di alzarsi! Il mio trucco preferito! Colazione gustosa! Il Caroline sta ancora dormendo! Wow! Caroline sta dormendo in classe, così può fare le sue otto ore complete! Ecco! Sono sveglia! Possiamo iniziare! Ok! Wow! Mi piace davvero quel ragazzo! Idea! Iscrivo il mio numero di telefono! Mi chiamerà! Ehi, bello! Ops! Brutto lancio! Amore mio! Sei bello come un arcobaleno all'alba! Cosa? Non ti piacciono gli unicorni? Ehi, amico! Oh, Caroline! Mi piace! Stai bloccando il mio armadietto! Sparisci! Consegna pizza! Grazie! Questo è per te! Tieni il resto! Wow! Dov'è la mia pizza? Grazie per i soldi! Ehi! Ehi, soldi! Ecco! Tieni il resto! La mia pizza gigante! Wow! Ehi! Dov'è la mia pizza? Era così buona! Grazie! La mia pizza nera preferita! Amanda! Beh, condividerò con te! Ehi, Lindsay! Vieni qui! Possiamo condividere la pizza! Lezione di musica! Accordate gli strumenti! Ragazze, siete pronti a suonare? Oh, santo Mozart! Questa è una bellissima armonia! Questa è per te! E questo è per te! Che succede? Ha un suono terribile! È il momento del mio assolo! Oh no! Le mie orecchie non lo sopportano! Prendi i paraorecchi! Lindsay! Hai rovinato tutto! Carolyn è così carina quando dorme! Il rosa ne starà bene! Sono tutta rosa! Ragazze, ve ne farò pentire! Questo nuovo stile vi sta davvero bene! Signore, benvenute al corso d'arte! Potete scegliere qualsiasi tecnica e qualsiasi soggetto, ma... Vi suggerisco di dipingere il mio ritratto! Ok! Ehi, Mr. Blood! Ho finito! Che ne pensa del suo ritratto? No? Penso che le assomigli molto! Ecco! Ho finito! Le piace? Troppo astratto, ma va bene! Grazie! Guardi il mio ritratto! Una corona le sta benissimo! È il miglior pezzo di sempre! Sono impressionato! Sembro bello! Piacere di conoscerti, re! Cosa? Ups! Prof, si prenda una pausa! Ciao! Oh, penso che abbiamo scambiato le mascherine! Scrivi qui sotto chi avrebbe dovuto indossare quale maschera! Grazie! Buon compleanno, Amanda! Salute! Dove sono i miei regali? Questo è per te! Chissà cosa c'è dentro! Niente! L'ho immaginato! È uno scherzo! Ecco il tuo regalo! Wow! Un nuovo iPhone! Grazie! Caroline! È il tuo regalo! Ecco! Niente abbracci! Ma cos'è? Oh no! Uno scarafaggio! Perché spaventare la festeggiata? Guardate qui! Un divano per lo scarafaggio! Siediti qui, carino! È super accogliente! Il mio scarafaggio! Giochiamo! Guarda che belle antenne! Bonjour, signorine! Questa è una lezione di cucina! E il vostro compito di oggi è di cucinare una bella e deliziosa torta! Mettetevi al lavoro! Non sarà facile! Wow, amica! La torta è venuta benissimo! Dammi il cinque! Che bella torta! Non vedo l'ora di rovinarla! Ragazze, guardate! Ho migliorato la vostra torta! Che c'è? Chi vuole un occhio? Sono solo caramelle! Siete così sensibili! Ecco il tuo voto, Caroline! Sei bocciata di nuovo! Sai che mi importa! Bel lavoro, Amanda! Oh sì! Ha più? Cosa? Lindsay? Congratulazioni, Lindsay! Hai fatto una scoperta scientifica! Questa è la migliore relazione di laboratorio dai tempi di Einstein! Ma resti una sfigata! Iniziamo la lezione di anatomia! Oggi parleremo degli scheletri dei pesci! Guardate attentamente! Lo scheletro ha preso vita! Un fantasma piranha! Sono così ingenui! Ora posso leggere in silenzio! Quello è davvero un fantasma piranha! Salvatemi! L'aramadietto di Caroline sembra più un cassonetto! Oh, ecco il libro che mi serve! Oh, un angelo! Gentili angeli della biblioteca! Potete pulire tutto! Grazie! Ma che le succede? Che c'è? Chiudi la porta! Oh, cavolo! Le briciole sul letto sono una tortura per la pelle sensibile! Briciole sul mio letto! No! Voglio prendere la rincorsa per saltare nel letto! Aspetta! Più veloce! Quasi fatto! Ok, tutto pulito! E il mio letto morbido! Dormi bene, Amanda!